Ciao a tutti, bentornati su Coffee Sport o benvenuti se è la prima volta. Oggi siamo a Parigi, allo stadio Pierre de Coubertin, ad assistere alla Coppa del Mondo di Fioretto. Nella giornata di oggi, nello specifico, andremo ad assistere a tutta la gara individuale, maschile e femminile. Come vedete sono qua sugli spalti, dietro di me ora si stanno svolgendo i 64esimi di finale, sia maschili che femminili. Ci sono tanti italiani in gara, tanta competizione e vi porto più vicino per vedere tutti i nostri atleti. Grazie a tutti! 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 Sì! 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 3 3 3 4 6 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 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 17 17 18 19 17 18 18 18 19 19 20 20 19 19 19 20 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 21 21 21 22 Kiyo Bjorki Concesa Palumbo Alice Funbi Siamo giunti alla fine di tutte le competizioni Alice Volpi ha vinto l'oro Quindi ha vinto la Coppa del Mondo di Parigi Francesca Palumbo è arrivata terza E Bianchi invece ha ottenuto uno storico argento Quindi tripla medaglia per l'Italia Argento, bronzo e oro Tutti e tre come vedete sullo sfondo stanno facendo le premiazioni Noi ci vediamo nella prossima pausa per me Ciao Ciao